A tutti voi, buona e santa giornata, buona mercoledì 24 agosto, festa di San Bartolomeo Apostolo. Vogliamo all'inizio di questa giornata affidare a Gesù misericordioso e a Maria nostra madre ciò che faremo. La nostra vita, la nostra casa, i nostri cari, le preoccupazioni che portiamo nel cuore, le speranze che coltiviamo, i progetti che vorremmo vedere realizzati e poi quelle richieste di aiuto e di grazia a noi necessarie, sempre dicendo Signore, non sia fatta la mia ma la Tua volontà. Voglio consegnarvi come preghiera e meditazione e spunto di riflessione alcune parole del Salmo 144 che ascoltiamo nella liturgia di questo giorno. Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere e Ti benedicano i Tuoi fedeli. Dicano la gloria del Tuo regno e parlino della Tua potenza. Noi siamo i fedeli del Signore e dobbiamo benedirlo. Questo ci chiede il Salmo. La nostra vita deve essere una fonte di benedizione del Signore. E poi, giusto è il Signore in tutte le sue vie E buono in tutte le sue opere Il Signore è vicino a chiunque lo invoca A quanti lo invocano con sincerità Chiamiamolo, invochiamolo, preghiamolo con sincerità Con amore e umiltà Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Padre nostro, che sei nei Cieli Sia santificato il Tuo nome Venga il Tuo regno Sia fatta la Tua volontà Come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen A tutti una buona giornata E sempre uniti in preghiera Vi voglio bene